A Pyongyang, capitale della Corea del Nord, decine di migliaia di persone si sono riunite per ribadire la fedeltà al leader Kim Jong-un. Le più alte cariche dello Stato hanno assistito alla cerimonia organizzata ogni anno durante la prima settimana di gennaio per mostrare il sostegno alle politiche del paese e al leader.